Mancano ormai poco più di due settimane alla data teorica d'inizio del Carnevale 2022 a Venezia prevista sulla carta per sabato 12 febbraio. La variante Omicron sta scombinando piani e tempi, per questo il programma non è ancora delineato. Negli alberghi non ci sono al momento prenotazioni, anche se ci spera nelle adesioni Gart Minute. Il calo dei contagi di queste settimane, d'altro canto, lascia a sperare che almeno le feste di Palazzo si possano fare. È una situazione strana quella che stanno vivendo gli alberghi di Venezia. In realtà sono semi vuoti, gennaio è sempre stato un periodo di bassa stagione, ma in questo momento la variante Omicron ha letteralmente desertificato gli alberghi veneziani. Però contemporaneamente ci sono segnali di speranze. Ottimo il provvedimento del ministro che ha levato l'obbligo del tampone per viaggiare all'interno dell'area Schengen. Io suggerirei un po' più di coraggio. Leviamo il tampone anche nel rientro dall'Inghilterra. Perché il turismo possa ripartire davvero va creato anzitutto un corridoio sanitario sicuro che comprenda tutta l'Europa. Una volta creato questo corridoio sanitario, questo spazio sanitario sicuro che comprende sostanzialmente tutta l'Europa, possiamo pensare a una ripresa del turismo. La pandemia si va spegnendo, i dati sono in miglioramento, per cui è sicuramente probabile che il carnevale venga fatto in forma minore, evidentemente, senza grandi affollamenti, ma contemporaneamente vengono fatte soprattutto le feste di Palazzo che sono molto importanti. Servono perciò sostegni ben adeguati alla ripresa. Sono cessati gli aiuti sostanzialmente. Sulla cassa integrazione è arrivata, ma non è arrivata come la volevamo noi. E quindi una mano da parte del governo, una mano vera, una mano concreta. Dall'altro lato una ripresa dei voli, una ripresa del turismo internazionale, una ripresa del turismo anche interno. Questa è sicuramente propedeutica a una ripresa dell'economia cittadina. Perché ricordiamoci che Venezia senza il turismo non vive.